Allora, il Ministero della Salute ha dato in via libera la doppia somministrazione di vaccini anti-covid e anti-influenzale. Insomma, si potranno fare insieme in un'unica seduta a partire proprio da questo mese. È una decisione evidentemente presa per difendere le categorie più fragili. Allora, partiamo da questa notizia, la notizia del via libera, per ragionare anche un po' sull'informazione e il covid in questa epoca di fake news, di attacchi no-vax, eccetera. Ne parliamo con Patrizia Laurenti, responsabile del centro vaccinale Policlinico Gemelli di Roma, che è in collegamento web. Buongiorno professoressa, bentornata una mattina. Grazie, buongiorno a voi. Mentre da Milano abbiamo Carlo Verdelli, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno a voi. E autore di un libro acido pubblicato da Feltrinelli, che raccoglie, poi ce lo spiegherà meglio lui, delle storie della cronaca italiana. In studio c'è il collega Raffaele Lorusso, segretario del sindacato dei giornalisti, la FNSI. Buongiorno. Cominciamo con la professoressa Laurenti, perché la notizia fondamentale è quella che abbiamo dato. C'è stato il via libera alla doppia vaccinazione. Perché è così importante? Domanda preliminare. È così importante perché sta per iniziare la stagione autunnale e invernale. E le stesse persone che dobbiamo proteggere con la terza dose, diciamo così, di vaccino anti-Covid, vanno protette contro l'influenza. L'anno scorso l'influenza non ha circolato a causa dell'adozione di queste misure non farmacologiche, mascherina, distanziamento e igiene delle mani. E quindi quest'anno può trovarci scoperti. Non sappiamo quando arriverà, non sappiamo quando ci sarà il picco. L'unica possibilità è vaccinare le persone più fragili, cioè le stesse che devono avere la terza dose di vaccino anti-Covid. La somministrazione è una pratica sicura. Pensi, la facciamo anche nei bambini piccolissimi. Quindi non ci sono rischi. Senta, dottoressa, mi viene in mente quello che abbiamo sentito prima, no? Le previsioni dei sistemi complessi molto difficili perché non siamo in grado di prevedere come l'influenza quest'anno colpirà e in che numeri. Rispetto a chi però ha ancora dei dubbi, soprattutto rispetto al vaccino anti-Covid, che cosa possiamo fare? Ma penso che a nove mesi dall'avvio della campagna vaccinale, chi si voleva vaccinare, chi credeva in questa pratica, ormai l'ha fatto. Vedo soltanto dei residui legati al fatto che il 15 ottobre diventa obbligatorio il Green Pass nei luoghi di lavoro. Possiamo continuare ad ascoltarli. Questo è quello che facciamo, che continueremo a fare. Quindi invito le persone a raccontarci i loro dubbi perché è su queste che possiamo agire. Sui cosiddetti no-vax probabilmente non c'è più speranza. Senta, professoressa, allora entriamo un po' nel vivo della questione a cui avevo accennato prima, cioè quello dell'informazione, delle fake news, eccetera. Che cosa il mondo della scienza e della medicina che lei qui adesso rappresenta si aspetta dal mondo dell'informazione? Dall'informazione, parlando dell'informazione professionale quantomeno. Dunque, il mondo della scienza si aspetta una interazione onesta, trasparente, si aspetta una capacità di ascolto, ma anche il mondo della scienza deve fare la sua parte, cioè deve riuscire a comunicare la verità scientifica in un linguaggio accessibile alla popolazione. Entrambi, scienziati e giornalisti, devono far sempre riferimento alle fonti primarie della conoscenza, la lettura degli articoli scientifici, le fonti istituzionali e lo stesso sostanzialmente il mondo del giornalismo, che devo dire sta lavorando molto bene su questo argomento. Il tema non è la comunicazione a mezzo stampa o radiotelevisivo, ma altri siti, altre fonti di informazione. E purtroppo mi riferisco ai social network. Direttore Verdelli, allora ricordiamo Ascido che su Ultimo Lavoro è edito da Feltrinelli. Senta, anche per lei una domanda preliminare però, perché insomma è chiaro che la pandemia è stata molto sfidante per l'informazione, per il ruolo insomma dei giornalisti. Allora le chiedo un primo giudizio, secondo lei come è andata questa interazione a cui faceva riferimento la dottoressa Laurenti, tra scienza e informazione? Ma è difficile parlare dell'informazione in senso generale. Non esistono i giornalisti come non esistono i pittori o i virologi, esistono tipi di giornalisti. Diciamo che nel complesso, in generale, salvo eccezioni spiacevoli e pericolose, mi sembra che l'informazione italiana, non dimentichiamo che l'Italia è stato il primo paese dopo la Cina a venire travolto dalla pandemia, abbia retto, abbia cercato di reggere una delle sfide più importanti che sono capitate negli ultimi decenni, cioè quella di capire cosa stava succedendo e di informare correttamente, specialmente nel primo periodo dove c'era una fame disperata di sapere che cos'era questo coronavirus e che cos'era questo Covid. Poi c'è tutta una seconda fase, diciamo, dove la informazione si è un po' divisa a seconda della colorazione politica. Sto parlando della fase che appartiene dall'estate dell'anno scorso, non del 2021, del 2020, quando c'erano gli aperturisti e i chiusuristi. Ecco, lì un'informazione ha cominciato a dividersi a seconda della colorazione politica e questo non ha fatto un buon servizio al paese. È giusto quello che si diceva prima, la cosa più importante in una pandemia come quella, non che abbiamo alle spalle, perché abbiamo alle spalle 130.000 morti e ferite profondissime, ma che abbiamo ancora davanti e sbaglieremmo sottovalutarla, è dare retta a delle correnti politiche che in questo momento sono da tacitare in nome invece del dovere di informare correttamente. Allora, parlavamo del valore dell'informazione professionale, la professoressa Laurenti dava atto del buon lavoro tutto sommato che si è fatto. Una situazione editoriale certamente non facile, ce ne parlerà lo russo tra poco dal punto di vista appunto sindacale, però anche Verdelli riconosceva che insomma delle contraddizioni nel mondo dell'informazione in tema di Covid ci sono state, insomma ci sono tuttora. Non dimentichiamoci che certe divisioni di tipo più politico che editoriale, come diceva lui, alla fine hanno influito su certi titoli che magari non avremmo voluto vedere su qualche giornale. Un po' come successe, senza fare paragoni troppo brutali, ma insomma sul caso Tortora che Verdelli cita nel suo libro. Vero Verdelli? Beh sì, il caso Tortora è un caso di scuola da questo punto di vista ed è credo uno dei primi capitoli del libro Acido a cui fate gentilmente riferimento. Il caso Tortora è un presentatore, un protagonista della televisione italiana famosissimo che viene accusato improvvisamente di essere uno dei capi della Camorra che è un grande trafficante di droga. La cosa che c'è nel racconto, che c'è nel libro, ma che corrisponde a verità è che nei primi giorni, dopo questa accusa infamante che viene da dei pentiti e viene immediatamente presa in carico dalle forze dell'ordine, dei magistrati che infatti lo vanno ad arrestare, i giornali, i primi giorni, cavalcono, molti giornali, cavalcono un po' stupiti però anche ingolositi dalla notizia, il fatto che Tortora, che aveva invece un profilo di essere un galantuomo, una persona molto raffinata, colta, una televisione intelligente e lieve, quella di Enzo Tortora, che Tortora era davvero il mostro non immaginato e molti giornali diedero la stura, sì è vero, è stato trovato uno iota, lui intestato, sì è vero, è stato visto con... fino a che arriva un articolo di Enzo Biaggi una settimana dopo l'arresto di Tortora che dice, e se Tortora fosse innocente? Ecco da lì comincia un'altra storia, quindi l'informazione ha sempre il suo dovere di essere sentinella, una storia lunga che terminerà nel modo in cui, credo, molti spettatori conoscono. Tortora passò attraverso gradi di giudizio, fu condannato, fu poi eletto nel partito radicale, fu rifiutò l'immunità che gli deveniva dall'essere europarlamentare e si sottopose a ulteriori gradi di giudizio, dai quali risultò completamente innocente. La sua, diciamo, innocenza fu garantita al 100%, era tutta una montatura, ma una montatura che costò a Tortora. La reputazione e la vita. L'altro aspetto interessante di questa storia di Tortora e che cerco di indagare nel racconto giornalistico che ne faccio nel libro Acido è che nessuno dei magistrati che hanno indagato e accusato Tortora di cose che non si è neanche sognato di fare, sulla spinta dei pentiti, ha pagato il conto di questa che Giorgio Bocca ha definito il più grande caso di macelleria giudiziaria della storia italiana. Non solo non hanno pagato, ma sono stati promossi, tutti. E allora, Lorusso, da questo che abbiamo sentito sinora, quando il giornalismo è la sentinella, ha, diciamo, in sé, porta in sé il valore, il dover di essere sentinella, la ricerca della verità, quanto è importante nel rispetto delle persone. Eppure, Lorusso, in questo momento, tornando a Bomba, dove siamo partiti, non tutti sono convinti che il buon giornalismo serva. Perché, secondo lei? Ma intanto perché la verità è il fondamento della professione giornalistica. Il rispetto della verità è il primo dovere del giornalista. Quindi, in questo momento, se penso, per esempio, a quello che avviene in alcune piazze, dove c'è gente che nega addirittura l'esistenza del Covid, e vede la presenza di giornalisti che sono lì per raccontare, identificano i giornalisti coloro che, appunto, invece sulla pandemia, hanno, a mio modo di vedere, soprattutto, come diceva il direttore, nella prima fase, dato un'informazione corretta. Hanno fatto capire, si sono sforzati di far capire, ai cittadini, all'opinione pubblica, i rischi cui si andava incontro. È chiaro che chi non vuole informarsi, chi si nutre di ignoranza, chi si nutre di pregiudizi, vede nel giornalista un nemico, vede nell'informazione un nemico, e purtroppo assistiamo anche a fenomeni come quelli delle aggressioni, come quelli di giornalisti che vengono aggrediti in piazza, solo perché stanno facendo il loro lavoro. Questo, poi, al di là di quelli che possono essere anche errori o eccessi che non mancano neanche nella professione giornalistica. Però, se devo guardare quello che è avvenuto durante, soprattutto nella fase acuta della pandemia, io ritengo che sia stato fatto un servizio corretto al Paese, sia stata data la giusta parola a chi, in quel momento, stava cercando di studiare il fenomeno e di cercare i giusti rimedi. E penso soprattutto agli scienziati. Volevo tornare dalla professoressa Laurenti, perché, per esternarle questo dubbio, cioè le fake news, perché noi adesso abbiamo parlato del ruolo del giornalismo professionale, con i suoi valori, le sue contraddizioni, ma insomma il suo ruolo sociale, eccetera, però lei giustamente ha detto il pericolo vero è arrivato dai social. Allora, la domanda è questa. Le fake news sembrano esercitarsi soprattutto sul tema della scienza, della medicina, della salute. Viene da pensare che sia una sorta di reazione psicologica ad un'idea che noi abbiamo della scienza onnipotente, perché la medicina, con i suoi straordinari progressi, noi ormai ci aggrappiamo a questa idea di onnipotenza della scienza. Come se fosse una sorta di reazione delle persone che dicono, no, non è vero, sono una gigantesca macchinazione. È possibile? È una sciocchezza quello che sto dicendo o no? Non è una sciocchezza, è assolutamente plausibile. La scienza appunto non è onnisciente e quindi è sempre onesto da parte nostra quando ci viene fatta una domanda a cui non sappiamo rispondere e dire non lo so, non so qual è la risposta. Spesso ci si chiedono delle previsioni, nessuno di noi è in grado di prevedere il futuro. Quello che non dobbiamo smettere di fare è di studiare, aggiornarci rispetto alle fonti primarie della conoscenza e cercare di fare un'alleanza col mondo della comunicazione per rendere queste evidenze a volte complesse da interpretare comprensibili alle persone. E su questo io volevo tornare da Verdelli, non solo perché abbiamo citato tanti giornalisti che sono stati aggrediti, ricordiamo il direttore è stato minacciato e vive con la scorta. Insomma è chiaro che non è sempre facile, chiama in causa la riflessione di Frittella ha anche il ruolo che l'informazione ha avuto nel raccontare la scienza e forse giustamente la dottoressa Laurenti diceva che a dubbi oggi deve essere in qualche modo ascoltato, debbono essere legittimati questi dubbi perché è chiaro che se non li legittimiamo diamo adito a chi, come dice Marco, pensa, insomma io reagisco di fronte all'onnipotenza di questa impostazione scientifica. Direttore. Ma solo per precisare, non sono sotto scorta per questioni relative alla pandemia, almeno non credo, non è questo, però è vero che molti colleghi sono stati aggrediti, minacciati, picchiati perché facevano il loro lavoro da, diciamo farei una distinzione, c'è una quota legittima di persone che per le ragioni più disparate diffidano delle evidenze scientifiche che in qualche modo hanno salvato la vita a centinaia di migliaia di persone nel nostro paese. Immaginiamo cosa sarebbe stato il Covid se non ci fossero stati vaccini. Se vediamo le proiezioni dei morti di un anno fa rispetto a due vaccinazioni di Covid ormai realizzati in buona parte della popolazione è presto fatto il conto. Poi, come è vero, c'è una parte, diciamo, in cattiva fede e sulla quale agiscono persone in cattiva fede che non aiutano, non aiutano, perché questa è una malattia che avviene per contagio, quindi non è una questione di libertà personale e che se io mi ammalo contagio qualcun altro, che sia il mio compagno di classe, il mio nonno. Io sul Corriere della Sera, tempo fa, qualche settimana, qualche mese fa, fui molto colpito e ne scrissi di una ragazza e contenuta anche nel libro che definì la ragazza cioè, la quale diceva ma i vaccini, i vaccini, l'importante è che adesso aprite, bisogna tornare a vivere, siamo stufi della pandemia, sì ma, gli chiedeva la giornalista, e se per caso tu sei giovane, magari se prendi il Covid non muori, ma magari contagi i tuoi nonni e magari loro invece rischiano perché sono gli anziani, le categorie più esposte e lei rispondeva in questo servizio giornalistico quindi diceva beh, cioè io ho diritto alla mia vita, loro sono anziani, sì, cioè sono i miei nonni, però cioè se lo prendono e poi muoiono, cioè hanno fatto il loro tempo. Ecco, questa mentalità è molto molto pericolosa e il compito di formazione non è educare, ma almeno raccontare, essere sentinella di questo. Grazie direttore. Ricordiamo che oggi alle 10 a Piazza Montecitorio c'è una manifestazione della FNSI proprio sulla situazione dell'editoria, sulle difficoltà dell'editoria e sulle pericoli che corre. Ringraziamo anche la professoressa Laurenti sempre gentilissima e chiarissima e grazie per averci accompagnato in questa che era una riflessione fammelo dire Marco necessaria e importante quindi in bocca al lupo per la manifestazione grazie ai nostri occhi.